Cara Anna, vorrei dirti tante cose. Cara Anna, vorrei dirti come la vita e come va affrontata, vorrei trasferirti il mio modo di fare e di pensare. Se c'è una cosa che ti piace tantissimo, la mangi subito o la lascia alla fine? Alla fine. Non abbiamo veramente un cazzo in comune io e te. Meno male. Vorrei esserci nei momenti di difficoltà. Ma non si può. Il destino ha deciso così. Tutti gli anni con questa cazzata dei regali, ma perché? Ma cosa pensi che stai male solo tu? Ma te c'hai mai pensato a me? Lo so, starai pensando ancora a questi regali. Che palle. Ma tu non sai quanto mi ha fatto bene. Oh, mi fa sì. Tutto a posto? Sì, adesso sì. Questo è il mio ultimo regalo. E spero che ti piaccia. Ora sei diventata madonna. E io ti amo alla follia. E io ti amo alla follia. Alla tua mamma. Ciao. Ciao. Grazie per la visione!